Con la maglia numero 16 presentato ufficialmente di Cocoi, il martello presso in prestito da Modena farà parte della squadra bianco-rossa fino a fine stagione. Sono felice, adesso ho cominciato a lavorare, sono contento, c'è l'allamento sta pomeriggio e non vedo l'ora di cominciare con il gruppo e sono contentissimo, dai, non c'è altro. Il mio contributo è mettere il 100% in campo durante l'allamento e durante la partita quando serve, come ho detto già io voglio aiutare l'allenatore, il gruppo per farmi il meglio, purtroppo sono stati due infortuni qui, sì io voglio aiutare la squadra, questo è il primo obiettivo per me. Perché un giocatore come Cocoi, che tipo di caratteristiche tecniche ha e che tipo di contributo può dare alla squadra? Mi auguro un grosso contributo, ha le caratteristiche che ricercavamo per riproporre, anche se non da subito, il modello con tre schiacciatori. Credo che Dick sia un ottimo attaccante anche dalla seconda linea, quindi questo ci aiuterà a riproporre questo modulo che nel primo scorcio di campionato ci aveva fatto appassionare. E Cocoi è venuto qui con una trattativa di imprestito da Modena, una trattativa veloce, facile, insomma tutto a posto. Veloce e facile, bisognerebbe parlare con Recine che l'ha portata avanti. No, credo che il mercato come sempre è fatto di opportunità, questa volta c'è stata l'opportunità di prendere questo giocatore che a Modena non stava rendendo al massimo, quindi Modena ha deciso di privarse, l'abbiamo preso noi e speriamo di farlo rendere come penso che sia nelle sue possibilità. Grazie a tutti.